Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial come sempre i nuovi problemi escono sempre anche con i nuovi aggiornamenti quindi nuovi aggiornamenti significano nuovi problemi in questo caso risolviamo oggi il problema dei server che non partono cioè nel senso che per quelli che hanno problemi a trovare una partita ci mettono più di una mezz'oretta allora a questo punto risolviamo a noi, risolviamo noi quindi innanzitutto su Call of Duty Warzone andate su opzioni come primo passaggio il crossplay mi raccomando tenetelo su sì perché una volta abilitato questo crossplay possiamo anche uscire da Call of Duty Warzone e applicare i comandi che vi ho lasciato in descrizione così facendo faremo una diagnosi sulla rete e nel senso che risentiamo poi si applica e poi si ripristina il fatto della connessione dei server DNS quindi un attimo che usciamo da Call of Duty quindi prendete i comandi che vi ho lasciato in descrizione eccoli qua cominciando prima da ipconfig spazio slash flush dns quindi andiamo su prompt dei comandi basta scrivere cmd esegui come amministratore questo prompt dei comandi facciamo ipconfig copia e andiamo ad incollarlo qui e fate invio ok abbiamo svuotato il dns ora facciamo un reset copia ctrl v se non funziona il tasto destro incolla reimpostazione catalogo winsock completata è necessario avviare il computer quindi una volta riavviato il pc quindi fate qua sopra riavvia il sistema chiudete tutto andiamo sulla nostra rete impostazioni rete e internet per quelli che hanno windows 11 andate su impostazioni di rete avanzate dovete trovare questa schedina più opzioni per la scheda di rete dovete trovare questa pagina ok questa scheda fate su proprietà scendiamo fino a trovare ipv4 questo protocollo è internet fate proprietà utilizza i seguenti indirizzi serve dns ora facciamo 8 8 8 8 anche qui invece 4 8 e fate ok e riavviate il pc un'altra volta oppure fate tutte e due assieme sia il comando che questa procedura se non dovesse andare questo protocollo andate su proprietà e scrivete 1 1 1 1 1 0 0 1 e fate ok se non dovesse andare quella procedura degli 8 e dei 4 fate ok fate chiudi e ditemi se è andato quindi se questo video vi è stato utilissimo io vi consiglio di iscrivervi al canale di attivare la campanellina di lasciare un like se il video è stato utilissimo perché i like servono anche a interagire con gli altri spettatori per far capire se questo video è stato d'aiuto oppure no quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao